... Insomma, noi attribuiamo alla politica sempre le colpe che talvolta non riusciamo a attribuire a noi stessi. Non dico che la politica non abbia, e soprattutto che amministra la città, le sue colpe e che si è stato forse alzato un po' il tono, però vi faccio un esempio a tutti. Se il Comune di Roma avesse e si fosse dotato degli stessi mezzi contro la neve del Comune di Milano e di Torino, chi avrebbe contestato questi appalti e questo spreco di risorse al sindaco Alemanno o a chi lo segue o chi lo precede? Noi cittadini, che avremmo detto quanti soldi buttati per una nevicata che avviene ogni 30 anni. D'altronde gli italiani sanno bene, soprattutto i romani, che in questa città dove stiamo trasmettendo in questo momento, ad esempio, nessuno si dota di cateni o di gomme termiche, perché costano e verrebbero usate una volta ogni 30 anni. Non voglio dire che non ci siano stati disagi, non voglio dire che forse il sindaco Alemanno avrebbe potuto evitare quella polemica con la protezione civile, ne parleremo tra poco, però ognuno si assuma le sue responsabilità, la politica certamente, ma anche noi cittadini. Non sempre quando piove o nevica è il governo ad essere ladro. Buonasera da Nicola Porro. Ogni volta che penso protezione civile mi viene in mente un bambino e un prato. Il prato era quello di Vermicino e il bambino era Alfredino Rampi. Questo lo dico perché il sangue di Alfredino, tra le tante cose, consentì un miracolo, cioè che nascesse in questo paese dell'eterna emergenza la protezione civile. Oggi la protezione civile è diventata merce di contrabbando, come tutte le cose in Italia. Prima è stata sfruttata, razziata, poi dopo è stata addirittura smembrata, depotenziata e adesso è sotto accusa. La domanda è, Roma è ancora una metafora, cioè la polemica fra il sindaco di Roma, che vedrete fra poco in questo studio, e il capo della protezione civile, mentre siamo ancora sotto una deve, è una cosa normale. Ed è meglio se in questo paese la protezione civile, come dice Alemanno, non esiste più. Io credo che in un paese civile le strutture dell'emergenza dovrebbero esserci, dovrebbero lavorare tranquillamente e non si dovrebbe passare un'intera giornata a combattere da un Tg all'altro, come ha fatto il sindaco Alemanno, che ha trasformato l'emergenza neve in una specie di reality, ma prima risolvere i problemi e poi, dopo, casomai, lavare il sangue, l'offesa, i problemi che ci sono. Buonasera, da Luca Telese. Allora, cosa hai messo lì sul tavolo, Telese? E un sacco di sale, perché forse questo salverà la metropoli dal caos. Dalla tua parte, il sale invece su internet, lo dobbiamo ricordare, Facebook e Twitter, in questa puntata, sindaco, saranno completamente attivi. Insomma, abbiamo anche... Abbiamo, scusa, diciamo un hashtag, perché ci viene dedicato. Parleremo solo, basta mettere in onda, parleremo di questo. E poi, c'è stato un piccolo equivoco, lei, quanti profili li hanno fatto su internet? Mi hanno fatto un profilo clonato, tanto per confondere un po' le acque. In cui lei diceva delle cose assurde. Tutte cose assurde... Sono già a Milano. Sono già a Milano. Abbandonate la città. Allora, senta, sindaco, io sono il buono questa sera, eh? Ho visto. Questo è il ruolo, eh? Ho visto. È il buono. Però, insomma, quando sei fuori da questo studio, obiettivamente la gente è molto arrabbiata. Alcuni ce l'hanno con lei, altri ce l'hanno in generale contro lo Stato, la protezione civile. e cose di questo tipo. La domanda che le faccio subito secca è questa. Quante emergenze in Roma nell'ultimo periodo? È molto sfortunato, sindaco, dalle piogge alla criminalità alla neve. La tendenza è dire che c'è qualcosa di eccezionale che lei non può risolvere da solo? Non è una tendenza. È una constatazione di volta in volta di quelle che sono le situazioni. Io credo che quando i cittadini sono giustamente arrabbiati per le ore di coda che hanno fatto venerdì, quando hanno trovato disagi e problemi, è giusto anche dire come stanno le cose. Non è che possiamo nascondere. Certo, in Svizzera o in Svezia si aspetterebbe due o tre giorni che passa l'emergenza e poi si parla, però siccome i giornali scrivono, siccome si fanno le solite polemiche politiche, in cui io vengo in qualche modo messo sempre in mezzo rispetto a quelli che sono quelli che in ogni cinque minuti tirano fuori qualcosa di diverso, allora dobbiamo affrontare la situazione. Allora, attenzione, io oggi ho lavorato 14 ore, sono andato avanti e indietro da tutta la città, di queste 14 ore un'ora l'ho dedicata anche a i media, non è che sto qua sempre a fare reality o qualcosa di questo genere. Fra le altre cose, di come stanno le cose. Allora, io vorrei riassumere la vicenda originaria. La vicenda originaria qual è? La vicenda originaria avviene nel giorno di giovedì. Nel giorno di giovedì noi non abbiamo un segnale chiaro di quello che stava per accadere. Allora, ci sono le famose questioni di centimetri, di millimetri, di pioggia, di metro centimetri. Qualunque italiano ha scoperto questa carta. Ha scoperto questa cosa qui. Facciamola vedere ancora una volta, mentre lei parla la faccio vedere perché è un documento ormai. Eccolo qua. Questo è il documento, vediamo se si vede o non si vede. L'hanno già visto. E su tutti i siti è anche ben discuso. Ma a parte questo, abbiamo, la leggo testualmente al di là dei centinaia dei millimetri, dal bollettino della protezione civile rivolto a noi, a livello del mare, compresa quindi l'area della capitale, la giornata vedrà un alternanzo di pioggia mista a neve, con tratti di neve o neve bagnata. Più probabili sui quartieri nel quadrante settentrionale. Mentre dalla serata le precipitazioni assumeranno carattere esclusivamente nevoso ovunque, persistendo poi nella nottata. E questa sarà quindi la fase più favorevole ad accumuli al suolo significativi anche in città. Ora, io cosa voglio dire? Voglio dire che con queste previsioni noi non potevamo pensare che dal mezzogiorno al giorno dopo cominciavano a nevecare fitto e che già nel pomeriggio eravamo in una situazione di crisi. Cosa ha determinato questo? Ha determinato che io giovedì ho fatto la chiusura, anzi non la chiusura delle scuole, il blocco di attività scolastica. Il prefetto non ha disposto la chiusura agli uffici pubblici perché con queste previsioni non si poteva fare questo. Anche il prefetto, forte di quelle previsioni, ha sottovalutato quello che avveniva in funzione di quelle... Esatto, in funzione di questo. Cioè io sono l'unico che si è assunto la responsabilità di sospendere le elezioni. E è stato anche criticato. E sono stato criticato. Perché giovedì lei è stato criticato. E mi prendevano in giro, dicevano il solito allarmismo, alle manno, eccetera, fino a mezzogiorno quando ha cominciato a nevicare. E ripeto, l'ho fatto su mia responsabilità senza l'avvalo del prefetto. Il prefetto, solo il giorno dopo, chiude gli uffici pubblici e io a ruota chiudo le scuole. Non facciamo l'ordinanza, che anche quella facciamo il giorno dopo, di portarsi le catene a bordo perché con questo tipo di allerta non possiamo dire ai romani l'obbligo portatevi le catene a bordo. E così via. Quindi sostanzialmente noi abbiamo perso un giorno a causa di un'allerta fasullo. Ora io non è che poi apro la polemica, subito la polemica con Gabrielli perché cosa me ne può rispondere, dice no, siete voi che avete un servizio inadeguato, eccetera, eccetera. E allora nasce il problema sulla protezione civile. Allora a questo punto io devo dire, ma non solo per l'oggi, anche per il domani, che noi purtroppo, e in questo Telese c'ha ragione, non abbiamo più una protezione civile in Italia. Ma lo dice lo stesso Gabrielli. Perché voglio dire, quando Gabrielli fu fatto il decreto da parte di Tremonti, dell'11-10, dice si critica la protezione civile ma ormai è diventata inutile. Questo è il titolo. Le posso leggere? Scusi, Sindaco, le faccio una domanda subito su questo. No, 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 un attimo, poi no, devo leggere. No, 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 lo sappiamo. Allora la protezione civile viene prima, si dice facciamo addirittura una S.P.A., poi dopo viene improvvisamente smantellata con questo decreto. L'unica cosa, scusi, d'accordo, lei e Gabrielli, lei è uno dei massimi dirigenti del PDL. Quando il suo partito e anche altri, per la verità, hanno votato questo provvedimento, non mi risulta che lei abbia fatto fuoco e fiamme. Non ha detto neanche una parola. Io all'epoca facevo già il Sindaco da un paio d'anni e non mi occupavo di leggi nazionali. Quindi io stesso non ho percepito la gravità di questo fatto. Ma di fronte poi alle dichiarazioni che mi hanno portato, che hanno scoperto l'archivio di Gabrielli, come è stato il Ministro, addirittura... No, però non mi dica, lei non ha percepito la gravità di questo fatto, perché noi stiamo parlando a tutto il Paese, parliamo anche ai comuni sottolinei. Certo, è ovvio, è ovvio, è ovvio. Non c'è più nessuno che si prende una responsabilità, si smantella la protezione civile. Mi prendo tutte le responsabilità, calma. Io però ho smesso di fare il Sindaco nel 2006 e ho cominciato a fare il Sindaco nel 2008. Il Ministro, scusate. Ho messo di fare il Ministro nel 2006 e ho cominciato a fare il Sindaco nel 2008. Questo decreto è un decreto del 2011, quindi non è compito mio andare a vigilare su questo decreto. E anche in quel caso, Gabrielli dice, capo, la protezione civile ci affondano, il mille prole ci affonda come Titanic. Allora, questa situazione qui. Allora, innanzitutto se io fossi Gabrielli di fronte a cose di questo genere mi dimetterei, non continuerei a guidare una protezione civile inutile, no? Semmai. Però voglio dire, rispondo a una realtà di questo tipo, noi oggi abbiamo una protezione civile. E io lo dobbiamo chiedere. Sì. È un modo indiretto per dire che ora Gabrielli si dovrebbe dimettere? No, 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 non mi interessa. Non mi interessa. Cioè, la protezione, io non sto facendo una polivia personale con Gabrielli. No, vabbè. Sto dicendo due cose. Primo, che la protezione civile è stata ridotta da questo decreto, dai tagli di fondi e altre cose, ad esempio ci passa carte. E non va bene perché in Italia ci vuole una struttura di protezione civile che difenda le spalle dei sindaci. Secondo, che anche nel ruolo di passacarte spesso sbagliano, come nel caso nostro, e ci danno dei servizi di metodo che sono sempre inadeguati. Probabilmente, forse perché, siccome il clima in Italia va cambiando e peggiorando, ecco la... Allora, lei se la doveva prendere, scusi, primo con il suo governo, secondo con il suo partito, che oggi l'ha difesa in un modo un po' omertoso, terzo forse con Gabrielli. No. Perché non c'è la protezione civile e lo ha confermato anche lei. Nessuno ha protestato, nessun politico. Lei fa centinaia di interventi, giustamente, le dico sulla politica nazionale. Ripeto, io faccio il sindaco e guardo le attività del sindaco. L'attività parlamentare la seguo fino a un certo punto. Quindi non è che adesso facciamo il discorso retrativo un anno fa. Dico, io ho costatato, ho dovuto constatare, che purtroppo è vero che la protezione civile non esiste. Ma poi, in specifico, oggi dico, che fa pure male il poco mestiere che deve fare. Perché ripeto, no, un attimo, il servizio meteo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. La massima autorità sul Roma, lei lo sa chi è, della protezione civile. Secondo la cosa, è una questione mista fra il sindaco e il sindaco. No, calma. Il sindaco è il capo ufficiale e il capo della protezione civile. No, 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 calma. Questa è la legge. Terese, devi stare calmo, perché io sono venuto qui a parlare. Quindi un attimo mi fai parlare, perché se devi fare così... Ho fatto una domanda. Mi devi far parlare, perché se no non mi inviti, perché se devi fare un comizio, io me ne vado. E' una domanda, non è un comizio. Posso rispondere? Allora, non è così, perché sono competenze parcializzate fra il prefetto, che chiude gli uffici pubblici, c'è la sindaco, che ha il governo delle scuole, che dispone della regione, perché la protezione civile è un ente regionale che si dirama sui comuni. Quindi sono competenze parcializzate, non solo sul sindaco. Quindi per favore non diciamo sciocchezze, perché se no sono già detti abbastanza. Non ne so sciocchezze nessuna. Su Roma è lei. No, su Roma è parcializzata fra me, fra il prefetto di Roma e fra la regione Lazio. Quindi non è assolutamente una competenza solo mia, purtroppo. Perché se fosse solo mia, almeno già saremmo un passo avanti. Ma soprattutto noi operiamo su allerte, su servizi medico che vengono dalla protezione civile nazionale. Se la protezione civile nazionale ci dice una cosa sbagliata, noi non è che abbiamo il satellite, perché se lo facciamo, lo diceva lui, mettiamo il satellite del comune di Roma apposito per vedere il tempo di Roma. No, ci basiamo su questo. Io ho detto che l'hai letto dove c'era neve e nella famosa nota ormai tutti hanno imparato a capire che 35 millilitri sono neve. Ho letto, ho letto, ehi, Terese, smettila con questa provocazione inutilmente politica. Ma non sei aggressivo. No, tu sei aggressivo. Io sono molto civile. Tu sei aggressivo. Mi dispiace che la politica sia aggressiva. Dovete smetterla di trasformare ogni cosa in polemica politica. Sono alterato perché non sopporto le menzogne. Dovete smettere di fare di ogni cosa polemica politica di basso livello. Qui stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando della salute dei cittadini e del modo in cui i cittadini vengono tutelati. Quindi bisogna dire le cose come stanno, non in base al fatto che siccome voi avete l'obiettivo alle mani o qualsiasi cosa succede... Nessuno ha l'obiettivo alle mani o qualsiasi cosa. A me pare che le cose non siano così. Mario Secchi il tempo le sembra un giornale bolscerico. Mario Secchi non ha detto quello che sta dicendo lei. Mario Secchi ha fatto un editoriale oggi in cui ha parlato anche dei suoi errori. Mario Secchi non ha detto questo. Mario Secchi non ha detto questo. Posso fare una domandina facile facile? Comunque voglio concludere. Scusa, una cosa soltanto, se posso dirla. Il punto qual è? Neanche tu. Il punto qual è, poi per carità, è che noi abbiamo di fronte una situazione che ha bucato, a chi ha messo fuori strada. Me, il prefetto, il presidente della provincia, il presidente della regione. Tutte in realtà territoriali sono state messe fuori strada. E lo dice anche l'Anci. L'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, diretta da un sindaco di centro-sinistra, ha detto che i comuni sono lasciati soli, non c'è un coordinamento dall'alto per intervenire rispetto a quella che è la situazione della protezione civile e quella del maltempo. Mentre ci vuole una protezione civile che sia realmente affidabile e che sia in grado di dati certi. Quindi noi, nelle realtà territoriali, siamo stati lasciati soli. Due domande velocissime. Primo, siccome lei è stato anche preso in giro per la chiusura delle scuole, perché giovedì quando lei disse questa cosa è stato preso in giro. Io le chiedo, allora, sulla base di quel bollettino della protezione civile, perché lei ha fatto chiudere le scuole? E la seconda domanda è la seguente. Se lei aveva comunque il retropensiero che ci fosse qualcosa di più, perché oltre a far chiudere le scuole non ha fatto altro? Non so se... Ottima domanda, rispondo. No, non mi faccia così, sennò Telese poi dice che io faccio domande domesticate. Però... Se io mi dovevo basare su questo bollettino non dovevo neanche sospendere le elezioni. Non dovevo neanche sospendere le elezioni. Era punto. Quindi ho fatto da solo un passo avanti. Col prefetto, ripeto, che non ha fatto la stessa cosa, quindi ho fatto un passo più avanti ed ero preoccupato di non aver esagerato, capito? Quindi che dovevo fare? Due passi avanti, tre passi avanti, andare oltre questo livello? Ho fatto. Qual era il passo avanti ulteriore che avrebbe potuto fare? Era chiudere le scuole. O quello l'ha fatto. Che altro? Fare l'ordinanza di obbligo delle catene. Fare l'ordinanza... Queste cose qui, che sono i passaggi successivi che ho fatto il giorno dopo insieme al prefetto, perché soltanto in quel momento quando hanno cominciato realmente a nevicare ci siamo resi in conto della situazione. Insomma, io quello che voglio dire è questo. Di fronte a situazioni così difficili bisogna avere le spalle coperte. Io ai cittadini romani devo dire, e lo devo dire per correttezza nei loro confronti, qual è la situazione. Quindi almeno mi auguro che da questa esperienza, che non è quella romana, perché quella romana è un po' di neve in più e molti disagi. In giro per l'Italia sono morti e morti. Pensiamo a Genova, pensiamo a Liguria. Io mi auguro che da questa esperienza venga fuori una protezione civile degnata di questo nome. Allora, no, no, fermo. Fare il giornalismo è fare le domande, no? Mi colpisce che lei abbia usato uno strumento vittimistico, perché io non ho nulla contro lei, lo sappiamo, no? Quando noi abbiamo criticato Marta Vincenzi, nessuno è arrivato a dire... No, lei l'ha difesa. Io l'ho difesa. No, no, ma quando noi abbiamo criticato Marta Vincenzi, quando Repubblica, il quotidiano esiste, ha fatto un editoriale di Francesco Merlo che spaccava le ossa a Marta Vincenzi dicendo hai sbagliato, nessuno ha detto Repubblica sta facendo una campagna contro Vincenzi, politica. Si è discusso del medio, quindi vorrei che anche stasera lei pensasse che se io potessi darle l'Oscar glielo darei, però le faccio delle domande. Me lo auguro. La riunione alla protezione civile, quante volte lei ha fatto quella riunione del comitato? Quante ha partecipato? Quante volte ha partecipato? Sì, quante ne ha fatte? In che senso? In generale? In generale quante riunioni avrà fatto di quel comitato? Ne avrò fatta una, due. Una e sa perché? Perché quella riunione è già il massimo grado di emergenza che la protezione civile in questo momento può esprimere nel Paese. vi convoca e quando arriva quella riunione lei sa già che c'è un'emergenza. Tant'è vero che ne ha fatta una sola. Sbagliato. Tant'è vero che ne ha fatta una sola. Innanzitutto mi sono presentato io volontariamente perché altrimenti sarebbe andato. Normalmente era convocato il mio capo della protezione civile a livello romano. Secondo era una riunione che doveva valere per tutto il centro Italia in cui abbiamo visto decine di altre emergenze e quindi non era solo per Roma. Tant'è che si è parlato di Roma per dieci minuti. Solo per dieci minuti in una riunione durata tre, quattro ore. Quindi da questo punto di vista non è un esempio valido e non è sufficiente. Però lei è andato, lo ritiene straordinario, che è andato oggi nella trasmissione dell'anno. Certo, ma ci sono andato per mia iniziativa. Ci sono andato per mia iniziativa perché mi ponevo il problema e dubitavo come era la situazione. In quella riunione voleva dire allerta massima. No, questa è una sua deduzione. Cosa che ha detto Gabrielli, che hanno scritto i giornali e che lei non ha smentito oggi dall'annunziata ed era collegato. In quella riunione Gabrielli ha detto, vi servono mezzi o interventi straordinari? Nessuno ha risposto. Allora, poi dice uno, perché dobbiamo parlare di queste cose quando c'è il costo di emergenza? Torniamo sul punto. In quella riunione Gabrielli dice, ci saranno dai 5 ai 15 centimetri di neve. Quindi, corregge la cosa dei millimetri ai centimetri. Su questa base... Scusa, voi sapevate che è millimetri e centimetri? Ma non mi interrompo, devo finire. Voi sapevate questa cosa che scrive dei centimetri e dei millimetri? Nessuno ce l'ha detto. Ma non chiedo se lo sapete. Nessuno ce l'ha detto. Stavamo là, nessuno ce l'ha detto. Io non lo sapevo. Detto questo, ripeto, lì passiamo ai centimetri. In quella sede, in una situazione in cui si parlava dell'Emilia Romagna, si parlava di altre cose, ci chiede, avete bisogno di qualche cosa? Diciamo, beh, 5 ai 15 centimetri ce la caveremo da soli, rispetto al casino generale. Quindi lei non ha chiesto nulla a lui. Però aspetta, un attimo, aggiungo un'altra cosa. Se io avessi chiesto qualcosa, non mi avrebbe dato nulla. Perché comunque, in ogni caso, la protezione civile non ci aveva nulla da dare. E quel poco che ci aveva era disperso per il Lazio, per il centro Italia, per cercare di fronteggiare le altre emergenze, quelle con i morti. Il sale chi l'ha portato, il sale che c'è adesso, questo? Il sale ce lo siamo procurati noi. La prutti 400 tonnellate. Tutti quanti noi siamo andati in giro. Le ha portate la protezione civile. Ma quale protezione civile? Le abbiamo procurati noi. Ma che ne sa, ma perché inventa le cose? Quelle sale ce le siamo procurati noi, capito? Alemano e telese. Io lo sto cercando in tutta Italia, da Rimini, anzi da Livorno fino a Caserta. Lo stiamo cercando noi, non ci hanno dato un solo sacco di sale. Fatemi intervenire sulla cosa, perché il tema della protezione civile... Però se lo cerca, lasciamo anche questo appello. 2000 tonnellate. Quante gliene servono? Eh? Quante tonnellate servono? Adesso ne abbiamo già messo 2000, ce ne sarebbero almeno altri 500 tonnellate. Allora, Paolo, Paolo, scusatemi, abbiamo detto che ci sono i nostri ascoltatori. Cioè, stiamo facendo da soli. Alemano, Alemano, l'obiezione che fanno gli ascoltatori, oltre a dire che io sono il suo avvocato, è la seguente. Paolo dice, le previsioni sono previsioni e non danno certezze. Chi è Paolo? Un nostro ascoltatore su Facebook. Ma le misure da prendere in maniera cautelativa sono sacrosante. Bastava dire obbligo di catene, meglio essere additati per eccesso di sicurezza che provocare il caos. Molti, anche suoi, voglio dire, non stiamo parlando di un complotto qua, ma molti nostri ascoltatori dicono ma che gli fregava Alemano? Diceva le catene. Certo. Beh, questo è il concetto che dico. Secondo lei, quindi, io dovrei andare a... Io sto leggendo l'obbligo di catene. Allora, facciamo così. Continuiamo a tenere l'obbligo di catene per tutta la settimana prossima. Teniamo le scuole chiuse per 15 giorni e continuiamo su questo e questo il discorso. Ma se già, ripeto, quando ho semplicemente sospeso le elezioni quando ho semplicemente sospeso le elezioni sono stato criticato per eccesso, o no? E allora, quindi, voglio dire, uno si prende la responsabilità in base a determinati allarmi di questo genere a fare tutto quello che lei sta dicendo. Non lo fa. Lo sto dicendo il nostro... Per carità. Queste sono le elezioni che si sarà sentito già fare, immagino. Ma sì, chi mi ha criticato perché era troppo, chi mi ha criticato perché era troppo poco. Non è questo il punto. Il problema di fondo centrale è che con questa situazione non siamo in grado di tutelare i cittadini. Io con questa protezione civile non sono sicuro, ho l'incubo ormai, di non sapere come tutelare i cittadini. Io come gli altri sindaci. Allora deve prendersela con il suo governo. Allora, allora, non è la prima volta che mi prendo il mio governo a impattivare con Tremonti che ha fatto questa gente. Non è la prima volta. Luca, che c'entra? Su questa cosa, come su altre, abbiamo sempre osservato questo tipo di vicende. Quando è passato questo decreto è l'effetto della polemia su Bertolaso. Bertolaso veniva accusato di essere troppo invasivo, troppo presidente, eccetera, eccetera. E poi è arrivato questo decreto che per i tagli e per, diciamo così, cancellare la protezione civile di Bertolaso ha fatto questi interventi. Ma io personalmente, quando ho visto Bertolaso intervenire sul Tevere, io ho visto un uomo che, pur con tutti i suoi effetti, quando c'è stata l'esondazione del Tevere, avete litigato con il Tevere? Abbiamo anche litigato. Bertolaso l'ha trattata malissimo. Abbiamo anche litigato perché Bertolaso si prendeva le responsabilità. Abbiamo litigato per eccesso. Me lo fai sentire, me lo fai sentire il sindaco cosa è successo in Tevere? Io non me lo ricordo più. Non vi ricordate quando si era solo il numero nel Tevere e c'era un barcone che si era staccato e altre cose? Lui ha detto, si è fatto nominare commissario, ha gestito lui direttamente all'emergenza. Anzi, diceva appunto... E ha detto, Alemanno non ci deve neanche mettere mano. Perfetto, se è così, viva Bertolaso. Preferisco uno che mi dice, stati gli stati perché ci penso io, uno che dice, to, tieni le carte, te la devi cavare a te. Adesso le chiedo una cosa, no, scusami Nicola, perché le ho fatto una critica... Cioè, io oggi non sono in grado di garantire la sicurezza dei cittadini perché non ho informazioni adeguate e non ho un'autorità, un potere superiore a me a cui fare riferimento. Certo, perché la protezione civile è questa, capito? Quindi adesso Gabriele la depiente in questo momento. Io oggi ho, scusa, io oggi ho. Non risponde? No, oggi ho. Allora, l'ultimo bollettino mi dice, domenica 5 febbraio, oggi, parzialmente nuveloso con le cali addensamenti associati a nuovi possibili brevi episodi, nevosi, specie tra il pomeriggio sera e la notte. Pomeriggio sera non è successo niente. Ma la notte che succederà? Succede tanto, succede poco. Adesso, questa è già prima smentita, no? Le faccio questa domanda. Stanotte che succederà? Ma lo dice lei? Vediamo, io non sono un aspetto meteo. Ci guardiamo nel cielo, facciamo l'astrologo? Con questi servizi meteo lei pensa che noi possiamo andare a garantire il dito dei cittadini? Nei Barsi sapeva che nevicava quel giorno. Due anni fa ha fatto una spruzzata di neve che ha imbiancato tutta la cosa. 2010. E ci siamo tutti divertiti perché era bellissimo, non c'era nulla di tutto questo. Purtroppo è successo una bella differenza quello che è successo con questa cosa. Io nel giovedì pensavo che si ripetesse la stessa esperienza di due anni fa, che è stato più che altro un divertimento. C'è una domanda che non la prenda come provocatoria, però è la sua agenda del giorno dell'emergenza. Lei è iniziato la mattina a Omnibus, poi è andato a Sky TG24, non so se ha fatto una locale, poi è andato a Rai 1, poi è andato al Palatino e ha fatto Mediaset, uscita da TG5 ha fatto un'intervista. Ho già risposto a questa domanda, prima. La sera è venuto qua e parla di noi in un canale. Ho già risposto a questa domanda. Quanto tempo, secondo lei, io lavoro, prego. Quanto tempo, secondo lei, della sua giornata è stato in televisione e quanto nella sala operativa? Posso rispondere? Metà e metà? No. Le facciamo il bonus. Posso rispondere? Io lo fai. Io lavoro, in questa fase, sto lavorando dalle 14 alle 16 fino alle 18 ore al giorno. Di questa cosa dedico un'ora alla comunicazione. Un'ora alla comunicazione. Mi sembra un calcolo un po' ristretto. Luca, non te ne va bene una del sindaco oggi. Io mi sono svegliato il giorno dell'emergenza, sono andato a dormire alle 3 di notte, mi sono svegliato che non è del macchino. Ma non è una questione politica, spero questa. Spero che non sia una questione politica. Io posso essere criticato a qualsiasi cosa, non sono certo uno che si tira indietro dal lavoro. Oggi ho preso pure la palla in mano e mi sono messo a spalla della neve come tutti quanti i cittadini romani. E sono orgoglioso di quello che hanno fatto i cittadini romani perché hanno reagito positivamente. sono stato pure sfottuto perché ho fatto l'ordinanza in cui ho chiesto ai cittadini di andare a prendere le palla. Cosa che è stata fatta in 100 comuni, 100 comuni italiani, che è stata fatta a Bologna e a Milano. Solo a Roma è stata criticata, come se io scaricassi. Sono orgoglioso dei cittadini romani che hanno preso la palla in mano, hanno aiutato la protezione civile, hanno sistemato le marciapiede davanti alla loro porta o davanti al loro negozio. Anche noi siamo orgogliosi. Vediamo che cosa... No, scusa, diamo anche la parola a Gabrielli che non c'è. Vediamo che cosa ha detto oggi dall'annunziata. Vediamolo. Contesto tutte le affermazioni del sindaco. Contesto l'affermazione del fatto che l'indebolimento della protezione civile si sia in qualche modo riverberato nella vicenda di cui stiamo parlando perché io posso affermare senza tema di essere smentito che in queste vicende la protezione civile di Bertolaso, la protezione civile di Gabrielli ammesso che si possa personalizzare si sarebbe comportata alla stessa maniera. Al di là di ogni dubbio, di ogni incertezza, i bollettini meteorologici che sono stati emanati nei confronti della regione Lazio e di cui ieri il sindaco dava anche conto ai mezzi di informazione sono corretti e sono corretti alla unità. Sono corretti perché negli standard internazionali e soprattutto nella vicenda romana dove abbiamo avuto zone in cui pioveva e zone in cui nevicava. Quindi la rappresentazione standard della precipitazione in millimetri che poi quando neve si traduce in centimetri questo è inequivoco. Di più. Io ho convocato alle 19.30 di giovedì un comitato operativo nazionale che di solito non lo facciamo per tre centimetri di neve o per un centimetro di neve. A quel tavolo erano presenti tutti compresa la prefettura, compreso il comune di Roma, compreso la provincia, compresa la regione. Noi avevamo perfettamente ben presente la situazione eccezionale che si profilava. Peraltro ci sono delle agenzie in cui il sindaco uscendo da quel consesso ha fatto dichiarazioni in merito a centimetri 5, 10, 15 centimetri che mi sembrano molto lontani dal centimetro e mezzo o tre centimetri e mezzo. Poi ho sentito un'altra cosa che Roma è stata lasciata sola. In quel comitato operativo io ho chiesto se c'erano delle criticità rispetto alle illustrazioni meteorologiche che in quel consesso venivano date e nessuno mi ha fornito come dire richieste mi ha formulato richieste. Tutte le cose già dette cioè tutte le cose già dette e già spiegate 5, 15 centimetri non è quello che è successo. Ma ha mentito? Però ha mentito o no? Cosa? Cioè quello che... Cioè qui è un problema grosso. Facciamo fare una domanda a cui può rispondere Alemanno però scusami è eccessivamente burocratico è eccessivamente burocratico Qui c'è un conflitto istituzionale che è la vita di questo paese la protezione civile in questo momento è l'istituzione di questo paese Non è un problema di mentire non è un problema di mentire non è un problema di mentire è un problema di equivocare è un problema di equivocare di creare un grosso equivoco sulla comunicazione stata data ripeto un equivoco che riguarda me e anche il prefetto di Roma Allora lei chiederebbe se noi siamo pronti a mandarle lei domani è Tg di Mentana se lei glielo chiede chiediamo lei si impegni a chiedere la protezione civile e la registrazione di quella riunione Sono disponibili sono disponibili anche certo sono disponibili a fare la registrazione sono disponibili come volevo fare oggi l'annunziata e anche stasera a vedermi faccia a faccia con Gabriele per chiedere queste situazioni quindi da questo punto di vista non c'è nessun elemento Gabriele equivoca perché non vuole ammettere un fatto elementare che le sue previsioni meteo sono inattendibili che non sono precise forse sono sul modello matematico vecchio e sbagliato forse è cambiato il clima in Italia non lo so non dico che sia colpa sua personale ma Roma non si doveva dotare di una centralina di analisi autonoma no eccolo sai cosa vuol dire questo sai cosa vuol dire un satellite mettiamo un satellite no no si doveva dotare o no altre città si sono dotate no no altre città si sono dotate no ti sbaglio sono altre centraline per l'inquinamento stai confondendo no non confondo quelle dell'inquinamento quelle sono cose legate a satelliti geostazionari che ovviamente non possono essere a nostra disposizione a meno non vuole fare investimenti le sembra un burocrate questo è il punto diciamo non ha mentito Gabrielli ma l'atteggiamento è burocratico cioè questo è quello che lei dice in buona sintesi è che non serve a nulla lei avrebbe voluto uno che ne dicesse da domani sono cavoli vostri e quindi dovete darvi da fare non la riunione prefettura 15 persone ma la dovete sentire con la riunione siamo stati ma la cosa è una cosa lunga ma cosa vuol dire la chiediamo a Gabrielli Nicola facciamo una speciale una riunione un tavolo quante persone c'erano se no sono state 50 persone ma Gabrielli qui c'è un problema abbiamo parlato di tutta Italia capito e in cui ripeto alla fine il messaggio lo dice anche il messaggio lo dice anche Gabrielli sono 5-15 centimetri a Roma sono caduti almeno 70 centimetri però c'è un problema quindi l'ha detto pure lui che ha sbagliato hanno detto pure lui che hanno sbagliato Gabrielli non deve prendere voti Gabrielli l'unica cosa che deve fare è essere efficiente capisce che se lei attacca un servitore delle istituzioni che non vuole fare propaganda e va in tutti i canali è sicuro che Gabrielli non deve prendere voti è sicuro che Gabrielli non deve prendere voti ma lei tutta la sera sta attaccando Gabrielli vuole candidarsi no voglio dire che aspira le cariche voglio dire che aspira le cariche va bene grazie a tutti Grazie a tutti.